Sì, è concluso a tardanotte l'incontro di giovedì a Mosca, tra Vladimir Putin e John Kerry, sulle questioni ucraina e siriana. Il segretario di Stato americano ha definito il colloquio con il leader russo molto costruttivo, senza entrare tuttavia nel dettaglio. Contrariamente a quanto previsto dal quotidiano statunitense Washington Post, il tema di una collaborazione militare diretta tra Russi e Stati Uniti in Siria non è stato affrontato. Del resto, Washington ha sempre declinato gli inviti di Mosca a unire le forze nella lotta al terrorismo. Tra i principali nodi da sciogliere, la divergenza di vedute sui nemici di Assad, oppositori moderati per gli americani, terroristi per i russi, e il rifiuto di Washington di fornire a Mosca dati concreti per la localizzazione delle forze cosiddette moderate, le cui posizioni, in diverse zone della Siria, sono difficilmente distinguibili da quelle dei terroristi di Anusra. A complicare i rapporti tra Mosca e Washington, l'annuncio che la Commissione Affari Esteri del Congresso statunitense ha approvato una proposta di legge che lega l'abolizione delle sanzioni alla Russia non più all'attuazione degli accordi di Minsk, ma alla restituzione della Crimea all'Ucraina. All'incontro di domenica con la delegazione di eurodeputati, guidata dal Vice Presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, Javier Coussopermui, il Presidente siriano Bashar al-Assad ha sottolineato che Damasco è in prima linea nella lotta al terrorismo internazionale e che dall'esito di questa guerra dipende la sicurezza dei paesi circostanti e dell'Europa. I problemi di terrorismo, estremismo e immigrazione che l'Europa sta affrontando sono provocati dall'adozione da parte di alcuni leader occidentali di politiche che non servono al popolo, aggiunto riferendosi al supporto dei terroristi siriani da parte dell'Occidente. A confermare seppur involontariamente il pensiero di Assad è il direttore della CIA John Brennan. Mercoledì Brennan ha ammesso l'incapacità dei reparti speciali americani di prevedere le conseguenze della primavera araba, che nel 2011 Washington definiva lotta per la libertà. Secondo l'intelligence americana, le proteste antigovernative nel vicino Oriente e nell'Africa settentrionale avrebbero dovuto portare all'indebolimento di Al-Qaeda e delle altre formazioni terroristiche presenti nella regione. Tuttavia, come ha ammesso Brennan e come suggerisce anche la logica, il conseguente vuoto di potere ha permesso il rafforzamento dei terroristi e la loro diffusione sul territorio. Nonostante l'ammissione del direttore della CIA, gli Stati Uniti continuano a insistere sulle dimissioni di Assad. Washington, infatti, non teme le conseguenze del suo operato. Come ha fatto notare il presidente siriano alla delegazione di Bruxelles domenica scorsa, l'America è lontana, mentre l'Europa è vicina. Gli europei sono vicini e subiscono le conseguenze delle politiche poco lungimiranti di Washington e di Bruxelles. Giovedì sera, un nuovo attacco terroristico ha colpito la Francia. A Nizza, un camion lanciato 80 km orari sulla Promenade des Anglais, ha falciato la folla riunitasi per assistere ai festeggiamenti del 14 luglio. 84 i morti, tra cui 10 bambini e un centinaio di feriti, alcuni molto gravi. Alla guida del mezzo, il 31enne franco-tunisino Mohamed Lawayesh Bulel, neutralizzato da due poliziotti. La Francia ha prolungato di tre mesi lo stato di emergenza. La Francia ha preso di marezza Grazie a tutti